E' una grande emozione Ciao Taubuk E' una bellissima manifestazione Una delle nostre manifestazioni d'eccellenza nell'ambito dell'offerta turistica letteraria della più prestigiosa Sicily, non dormi Tu devi prendere la liderazza in creare la identità mediterranea E' molto felice di essere qui a Taubuk Taubuk è un festival incredibile E' molto honore di dare un prezzo questo anno a Aleph Betti Hoshua Un saludo molto speciale a questo festival che mi ha invitato e che mi honra Un programma straordinario, pieno di eventi, uno più bello dell'altro Questo Taubuk è in questo posto meraviglioso e con questa gente fantastica E' una manifestazione che si svolge in un luogo che per me è splendido E' uno dei posti più belli del mondo Saluto Taubuk e anche tutti quelli che seguono la lettura Ragazzi, ciao a tutti Un saluto tremendo, immenso a questa meravigliosa città Vorrei scrivere un altro libro per ritornare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti